Dal Vangelo secondo Matteo 33, 48. Avete anche inteso, che fu detto agli antichi non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico non giurate affatto né per il cielo. Perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello per i suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Grare. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sì è invece il vostro parlare sì. Sì. No, no. Il di più viene dal maligno. Avete inteso, che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. Da a chi ti domanda e a chi desidera date un prestito non volgere le spalle. Avete inteso, che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste. Che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste.